olè ci siamo siamo live gabri buongiorno buongiorno c'è una sensazione di sì tu mi senti sì sì ti sento assolutamente come stai tutto bene inesorabilità sia una sensazione un po di qualcosa di inesorabile col conto alla rovescia fa fa paura è quel cambio da quel conto a rovescia tra l'altro mi sono spaventato un sacco perché la sigla è diversa dalle altre volte non l'avevo mai sentita quindi sono emozionatissima sì ciao ragazzi ciao a tutti anche a voi che ci seguite da casa spero spero che vada tutto bene anche per voi noi qua siamo io molto chiaro gabri molto scuro ma lui è molto artista quindi ci può stare come ti senti in quello spazio gabrie mi sento molto bene mi sento un po come forse meglio che a casa mia sì 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 beh molto figo allora scusa vieni più spesso a trovarci a stare qua dentro sì esatto è vero ragazzi voi non sapete ma gabri per sentirsi più a proprio agio ha deciso che voleva venire qua da noi e fare la live dal box per le registrazioni audio si sente a casa qua si sente a casa lui allora ragazzi che dire io farei una piccola presentazione intanto di gabrie poi in realtà si presenterà lui perché io non sono un presentatore sono davvero scasso a farlo non è non è tra le mie skill tra le mie expertise si dice oggi si dicono un sacco di cose strane ciao max eccolo qua il buon max che si è collegato è ancora tra noi max ciao simo grazie a tutti e allora chi è gabri allora innanzitutto io e gabri ci siamo conosciuti perché lui ha iniziato sostanzialmente a collaborare con noi grazie a videomaker la serie che facciamo per la rai e lui ci dà una mano in quanto proprio speaker poi da lì siamo siamo diventati amici poi ho scoperto un po di cosette molto interessanti su di lui come per esempio lui ha un podcast tutto suo di cui vi racconterà qualcosetta lui è un attore tra l'altro ha fatto delle cose veramente interessanti perché magari ci racconterà anche lui ha portato il teatro all'interno dei musei per esempio e non solo e questa è una roba molto molto interessante e insomma lui è una persona in realtà normalissima non ha nessun potere speciale però diciamo che riesce a lavorare grazie alla sua presenza alla sua voce al suo carisma e ne ha parecchio di carisma però al momento è molto timido gabri dici qualcosa di te da qua in poi io lascio andare avanti te perché sai che io sono scarsissimo a ghiacchierare ma cosa vi posso dire sì sono una persona come dicevi tu io penso di essere una persona tra l'altro pochissimo capace a presentarsi come si chiamano sono forse gli speech quelle cose che ti chiedo una volta di fare in pochissime parole in pochissimi secondi per presentare un progetto ecco io queste cose qua credo di essere proprio negato e se vuoi andiamo per ordine no no aspetta adesso adesso mi assumo questa responsabilità di di presentarmi e non è facile faccio sempre fatica allora cosa sono quello che faccio faccio quello che sono faccio un sacco di cose ma se dovessi dirti che sono un doppiatore che sono uno speaker che sono un attore che sono una persona che si occupa sono anche una persona che si studente sono anche una persona che inserisce boh sono tutte queste cose quando poi dice fa il doppiatore di professione l'insegnante di professione non lo so sono una persona che fa tante cose tra cui appunto il doppiaggio lo speakeraggio sono ufficialmente uno studente perché mi sono iscritto l'anno fa all'università e ho un podcast e quindi sarei anche un podcaster insegno in due scuole teatro e quindi sono anche un po un insegnante faccio la ufficialmente faccio la didattica in alcuni musei ma poi faccio anche delle guide delle visite guidate quindi sono anche un po una guida esatto e ti sei una delle domande che mi ero scusami cosa sono dimmelo tu se puoi cosa sei e sei un cocktail di di competenze che comunque comprendono il buon utilizzo della tua persona può essere una è una cosa che non direi mai di me il buon utilizzo della mia persona no ma perché tu probabilmente lo fai totalmente senza farci caso io ho notato che tu per esempio una domanda che avrei voluto farti dopo in realtà però te la faccio già adesso tanto l'argomento l'abbiamo capito quale tu nel tuo sono io esatto chi sei tu è l'argomento di questa live quindi adesso per capire chi sei tu effettivamente avrei una domanda interessante per esempio partiamo da dal tuo podcast così abbiamo un punto di partenza per instaurare una conversazione tu per esempio mi dici sempre che nel tuo podcast sei te stesso effettivamente ed è vero però per esempio una cosa che io ho notato è che nel tuo podcast tu sei in qualche maniera impostato vocalmente e quindi vorrei chiederti sei davvero tu quella persona impostata vocalmente o invece il tuo modo di porti davanti al microfono perché ti viene naturale magari anche grazie al lavoro che fai o magari lo fai magari non sei tu magari non ti viene naturale però pensi che sia bene farlo per esprimere al meglio te stesso su questo penso di avere una risposta che adesso vi racconto e vabbè si potrebbe dire tantissimi ci potrebbe si potrebbe chiedersi sempre se hai te stesso quando fai qualsiasi cosa che fai veramente tu o no però su questo aspetto qua che dici tu adesso magari chi ci ascolta il mio podcast non l'ascolta non lo ha sentito ma è però è facile da da avere come esempio se qualcuno mi cerca online ci sono i doppiaggi che ho fatto e sente lì la mia voce o le cose che abbiamo fatto insieme per il chili mangiaro o il mio podcast effettivamente c'è una c'è una differenza secondo me la stessa differenza che c'è tra una persona che in piscina va per svago una volta la settimana e un nuotatore e cioè il nuotatore ha un ha un corpo preparato per nuotare in un certo modo e chi usa diciamo la voce per lavoro perché magari ha studiato semplicemente la dizione o anche semplicemente perché la usa spesso ha un modo di fare che è più distante da quello quotidiano e quindi io avendo semplice tra l'altro io non credo di anzi sono sicuro di non avere di non essere una persona dotata di qualità tecniche eccellenti tant'è che anche nei doppiaggi nelle cose che mi capita di fare spesso faccio cose per per ragazzi faccio cose di didattica doppio facce molto giovani perché ho un tipo di pasta vocale che è giovane non è una non risulta una voce adulta benché io abbia 34 anni la mia voce più giovane della mia età anagrafica è vero ragazzi chi ci ascolta se volete fare una prova chiudere gli occhi e sentirlo parlare sembra molto più giovane della sua età anagrafica vai scusami ti ho fatto una piccola interruzione niente e quindi tutto questo era per dire è ovvio che il mio modo di fare il podcast non è come quando io parlo al bar perché ormai ce l'ho fino e anche ora non sto facendo nulla di particolare ma in automatico magari respiro un po diversamente e la mia voce esce con una chiarezza diversa benché non non penso che risulti un doppi aggese uno strano modo teatrale di parlare che hanno magari altri miei colleghi che sono entrati diversamente nel nella pasta della tecnica vocale e quindi per rispondere alla domanda sono veramente io sì ovviamente sono io in un modo un po diverso però da quello in cui sono io anche quando facciamo il kilimanjaro però lì c'è un aspetto un po più tecnico che comunque non è particolarmente tecnico è piuttosto colloquiale quotidiano anche quello nel podcast mi preoccupo molto di meno cerco di essere il meno performativo possibile e quindi non ti riesce bene essere meno performativo possibile ma in realtà anche in questo momento è per dire che che ti risulto meno interessante nel podcast che dal no 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 anzi il contrario nel senso non ti riesce bene a essere meno performativo nel senso che tu anche in questo momento mentre stai rispondendo a questa mia domanda non te rendi conto ma hai un modo di parlare hai un modo di porti in qualche maniera che funziona sei hai molta presenza la frase tutta ben scandita in qualche maniera qualche tua frase più impostata qualche tua frase meno impostata però si nota che c'è una preparazione alle spalle come dicevi tu è un nuotatore che va tutti i giorni non è che entra in acqua e nuota a caso comunque lo farà impostato per nuotare per il paragone lì era secondo me quello più funzionale per essere più chiari e meno nebulosi possibile il nuotatore poi si trova che così ha lavorato come un danzatore come un atleta ha fatto allenamento per molto tempo quindi ai polpacci più grossi di uno che non l'ha fatto i quadrici più tipi è così però lui cammina come cammini tu semplicemente la sua camminata per forza di cose è un po diversa io credo che sia questa roba qua il podcast per me anche un qualcosa di intimo e di personale perché cerco di di essere di usare la voce in un modo un po più più spontaneo di come non faccio magari appunto quando meno spinto e chi li mangiare è una cosa molto entusiastica io se c'è i cazzi miei quando entro qua dentro poi faccio la puntata sorridente la voce allega invece di tirare fuori delle sfumature che non so poi si che passano tra l'altro però cerco di essere più a contatto con con me sì esatto poi nel tuo podcast tu sei molto te stesso e racconti cioè tu parli di quello che ti va di parlare dei temi che ti stanno a cuore dei temi che stai studiando all'università applicati alla vita di tutti i giorni invece quando lavoriamo in chirimangiaro stiamo facendo un lavoro quindi bisogna portare a casa quella roba lì come la vogliono alla rai e chiaramente stiamo a lavorare sull'intonazione delle frasi su come raccontarli legati alla musica quindi è totalmente un'altra cosa se hai delle problematiche legate alla vita le lasci da parte perché tanto non servono al chirimangiaro tendenzialmente tra l'altro vedo che max ci sta scrivendo una cosina visto che siamo in mood filosofico secondo voi speaker si nasce o si diventa una questione di allenamento e studio o è talento innato ma la risposta scusami ma se entro così a gamba tessa purtroppo non sarà filosofica no non ci vuole talento per fare lo speaker direi lo escluderei subito credo che chiunque possa arrivare a fare lo speaker fondamentalmente si studia la dizione si studia appunto tecnicamente che una frase quando devi dire una frase affermativa deve chiudersi al termine quando dice una frase interrogativa ad essere aperta e simili cose e fai lo speaker quindi è una cosa che si studia tendenzialmente alla fine è un po come la matematica anche fare lo speaker bisogna imparare a posizionare gli accenti giusti a fare lo speaker l'attore si studia assolutamente e penso che in questo ci sia ci possa essere senz'altro una c'è anzi di sicuro una componente anche innata e il doppiatore in realtà è una specializzazione dell'attore quindi è un fenomeno diverso lo speaker speaker quindi la pubblicità un tre per due compra un pacco di pasta esatto ci puoi fare compra un pacco di pasta e ne ottieni uno gratis da speaker e da attore in due maniere diverse cioè da speaker se dovessi dire in una pubblicità compra un pacco di pasta e ne ottieni uno gratis compra un pacco di pasta e ne ottieni uno gratis e dovessi farlo invece da attore nella stessa maniera e non lo so può essere una roba compra un pacco di pasta e ne ottieni uno gratis però questo è fuffa è questa roba quindi la tecnica per far capire magari a chi ci segue da casa di cosa stiamo parlando per chi non la voce conosce la voce dello speaker tendenziale la voce impostata è un po questa cosa qua che io ad esempio non ho e di parlare sempre un po in questo modo e magari metterci dei fiati i fiati sono interessanti senti che c'è questo alla fine da anche un po un po fiction poi se tu dici le cose a bassa voce e se sei se non sai troppo fare il tuo mestiere a bassa voce va bene un po tutto ciao a fanculo basta poco però Gabriele è impegnato che dopo questa tua performance iscriveranno tutte le donne sicuramente è impegnato almeno scusa per tornare domanda di massimiliano che è una bella domanda invece il doppiatore noi il doppiatore arriva da un da un percorso attoriale e storicamente il doppiatore fa quello perché gli attori e soprattutto nei grandi anni del cinema dove c'erano tanti soldi per la post produzione e gli attori che avevano famiglia spesso si erano stufati di andare in giro a fare le tourne teatrali che ti impedivano di poter stare a casa con la famiglia ad esempio e che erano pagate molto di meno della post produzione e quando erano in pausa a Roma perché lì tutto è nato andavano in sala a doppiare però era gente che arrivava da lì e infatti altro esercizio facilissimo se qualcuno si vada ad ascoltare un film vecchio ma vecchio può essere anche semplicemente matrix il primo che è comunque abbastanza dove c'è ancora una generazione di doppiatori che arrivavano proprio dal teatro e lo confronta con il doppiaggio di adesso secondo me davvero percepibile questa questa differenza di pasta questa proprio di pasta e di spesso o se uno si guarda la bella addormentata nel bosco e sente la strega che c'è quel di linea o anche tipicamente anni 40 che proprio anche di una culturalmente di una recitazione diversa noi adesso per noi sarebbe insopportabile adesso parlare in quel modo insentibile no vabbè è stato è stato un po diciamo una lenta transizione tra ciò che era l'istituto luce negli anni 30 fino fino ad adesso no una volta avevamo quelle pubblicità tutti pronti per il du cioè ti ricordi quelle pubblicità degli anni 30 famose ecco quelle cose lì quello era forse le prime forme di spiegheraggio in qualche maniera impostato derivanti forse dal teatro ma c'è anche questa roba dell'impostato secondo me andrebbe rivista noi siamo penso in un'epoca di dove tutto tecnica e tutto diventato un tecnicismo quindi se fai se googli uno bravo trovi un sito che ti ti spedisce a uno psicoterapeuta su misura per te se hai dei problemi trovi il metodo roba dei metodi e non è che ti insegnavano il metodo per spiegherare che se tu fai l'attore tendenzialmente devi parlare c'è una cosa molto pratica a un pubblico molto vasto che deve essere tra l'altro in grado di comprenderti dal friuli venezia giulia alla puglia in un italiano unico quindi perché deve essere lo stesso per tutti dunque era molto pratica quell'esigenza e poi si è trasportata nel microfono cioè a microfono certo che poi c'è una tecnica perché tu devi stare su una faccia eccetera eccetera però è da lì che viene questa tecnica ok guarda abbiamo Mirko che ci fa una domanda perché gli si sta spegnendo il telefono magari gli diamo una risposta ma lui ci chiede risorse per imparare le basi per fare voiceover professionali in realtà c'è Mirko ciao intanto grazie mille della domanda e ho visto che ci hai salutato anche prima poi il discorso è andato avanti ci sono diversi io ho trovato diversi video sia su youtube ho trovato diversi corsi in giro acquistabili giusto tu gabri hai studiato immagini io volevo fartela questa domanda già prima come hai iniziato sostanzialmente questo tuo percorso ma magari comunque per dare soltanto uno spunto a Mirko il 2% di batteria di Mirko li direi l'inizio il corso di dizione voilà perfetto e che bling and deck ti insegnano a fare poi tu hai la dizione e insomma hai la base neutra del linguaggio e lì tutti quegli esercizi lì quando impari la dizione poi ti portano anche a fare esercizi per il voiceover e io l'ho studiata io ho fatto un'accademia di teatro e ho e lì ho studiato dizione malissimo perché avevamo un insegnante che non era capace e questo aprirebbe un'altra parentesi però ufficialmente avrei dovuto studiare la dizione in accademia di teatro perché li impari ma poi ci sono anche tanti corsi appunto io posso iscrivermi solo un corso di dizione online in presenza ci sono corsi sulla comunicazione efficace sullo spicheraggio sul doppiaggio di avvicinamento al doppiaggio e di recitazione che quelli comprendono interiore un po tutto sì tra l'altro io mi ero segnato delle domande da farti poi non te ne sto facendo neanche una di queste qua quindi va bene però abbiamo preso una strada che mi sta piacendo e in realtà vorrei farti una domanda che avrei dovuto in realtà farti all'inizio però all'inizio non mi è venuta perché abbiamo preso un'altra strada e mi è venuta invece adesso allora per capire un po anche magari chi meglio tu sei tu dicevi che hai imparato sostanzialmente il doppiaggio comunque l'addizione in un corso di teatro quindi tu sei diventato speaker successivamente ma tu hai iniziato col teatro giusto o sto sbagliando quindi tu comunque arrivi dal teatro sì sì io ho fatto un'accademia di teatro che durava tre anni quindi ufficialmente mi sono diplomato come attore ok perfetto quindi tu poi da lì hai iniziato sostanzialmente la tua carriera tu quanto tempo ci hai messo a passare dal teatro cioè a passare in realtà poi comunque io immagino che tu la parte di teatro storiale la ma io in teoria questo per di teatro purtroppo ne ecco questo è un altro problema tristemente pratico legato quando dicevo prima in quegli anni in cui fare teatro e nonostante lo facessero ci fossero le tournée guadagnavano poco adesso è difficilissimo fare teatro ancora più difficile guadagnarci bene e quindi dopo il diploma avevo bisogno di lavorare il doppiaggio una cosa che le voci mi sono sempre piaciute ed era molto pratica la cosa avevo provato subito quello perché era più facile guadagnarci se fossi riuscito a farcela era più facile guadagnarci rispetto che al facendo l'attore che per me non è stato proprio non sono stato forse capace a inserirmi nei giri giusti fatto sta che l'unica tournée grande che ho fatto dopo l'accademia ma non mi ci sarei pagato neanche un anno d'affitto quindi comunque il panorama oggettivamente non è facile però in realtà io questa carriera del doppiaggio non l'ho non l'ho finita io adesso mi posso considerare che potrei addirittura dire che sto ancora imparando e le cose grosse che ho fatto nel doppiaggio sono le cose grandi negli umani sono è una la cosa più grande che ho fatto idem nei cartoni e quindi ancora ne avrei da imparare ufficialmente io ho iniziato nel 2000 e mi sono diplomato nel 2019 nel novembre del 2019 quindi io più o meno nel 2020 ho chiesto i primi sono andato a frequentare iniziato a frequentare le sale di doppiaggio chiedere dei provini e quindi figurati cioè sei praticamente all'inizio della tua carriera ufficialmente e io poi non fa e questo è il discorso di prima su chi sei cosa fai io non faccio solo questo e ho scelto di non fare solo questo ed è un problema determinante per come il mondo del lavoro oggi è questo mondo del lavoro che è sempre stato un mondo chiuso oggi ancora di più per una serie di problematiche quindi io sono sempre cioè se mi chiamano vado ma io ho smesso la frequentazione di sale in cui non sono mai stato e io ancora oggi dovrei andare a bussare dire ciao sono Gabriele io faccio questo quest'altro non mi hai mai sentito mi faresti un provino però poi nel frattempo si sono uniti altri interessi nella mia vita la didattica questo è la storia dell'arte a un certo punto ho sentito davvero il museo per me poteva essere un teatro e mi sembrava un modo più intrigante di fare teatro oggi quello di trovare un modo di fare una narrazione teatrale in museo raccontando una e quindi mi sono spostato là e ho iniziato a fare anche quello e quindi le sale oggi le frequento quando mi chiamano e ho lasciato da parte tutta quella quel mondo autopromozionale a roma non sono mai andato a farmi sentire e vorrei farlo da anni e quindi e quindi tutto questo per dire che ho iniziato tanto tempo fa ma questa è una strada che tutti ti consiglierebbero di a chi volesse intraprenderla di battere ferro in un modo ossessivo certo è vero perché comunque di lavoro ce n'è è vero che bisogna mandare i propri contatti e i propri provini in più studi possibili perché poi chiaramente dipende sempre molto dal cliente che tipologia di voce ha bisogno quale gli piace di più perché poi magari può darsi che come la voce tua gabri ce ne siano altre cinque il cliente sceglie la numero 4 piuttosto che la tua quindi più studi hanno il tuo materiale meglio assolutamente scusami ti vorrei portare il discorso invece su su una cosa che tu hai anticipato che sarebbe stata la mia la mia prossima domanda ovvero tu hai portato io l'avevo già anticipato anche inizio nella presentazione forse l'unica roba che ho detto di te tu hai portato il teatro nei musei questo è molto interessante ci vuoi raccontare un attimo di spiego perché è detta meglio di come di come in realtà non sia nella nella realtà nel senso che questo era era il progetto ed è ancora devo dire il progetto io è proprio mentre ero in una caffetteria a milano mentre agitatissimo aspettavo di andare a fare un provino in uno studio a milano che si chiama jupiter credo che ci sia ancora era arrivato prima perché tra l'altro erano per andare io facevo spessissimo torino milano questa era una spesa tra l'altro di soldi enorme quindi partivo molto prima magari andavo col blablacar prende insomma ero in questo bar che aspettavo apro il computer e dico adesso mando una mail alla didattica della reggia di venaria e traslo un progetto teatrale che ho presentato in una scuola e lo faccio in un museo e li chiedo se sono disponibili a fare un laboratorio che poi si trasforma in spettacolo là alla reggia allora per quelle cose meravigliose che le persone polemiche dicono che succedono solo in italia io non lo so succede che mi chiamano e mi propongono tutta altra cosa quando mi propongono di lavorare come guida così bellissimo questo problema insomma difficilissimo problemi vari ed eventuali e quindi ufficialmente inizio a lavorare con le scuole come come guida mi sono questa secondo me è la differenza rispetto ai miei colleghi guide turistiche reali io ho studiato il mio percorso come se fosse davvero un ma questa è stata una scelta mia come se fosse un una storia che ti potrei raccontare anche a teatro e semplicemente lo facevo spostandoci nelle sale e poi ho iniziato a fare dei laboratori effettivamente nei musei ma il museo teatro qui si chiude realtà poi con un mio collega abbiamo creato uno spettacolo effettivamente teatrale alla reggia di venaria itinerante non in costume siamo una via di mezzo tra due attori due guide due strani esseri del passato che raccontano la reggia in una forma vicina a una narrazione teatrale ecco che mi pare molto interessante e molto bella questa cosa qua c'è la reggia di venaria è come tutte le altre regge molto bella però la sempre la solita guida che ti racconta le cose dopo un po rimane noioso magari invece avere uno spettacolo uno lo segue più volentieri no sì però non ti devi immaginare appunto lo spettacolo a teatro e questo è il motivo per cui ho davvero ho poi tra l'altro per questo deciso di iscrivermi all'università proprio per raggiungere una competenza competenza vedi l'expertise parlavi prima ormai si vendono anche se si va dal salumiere esatto volevo anche questa competenza un po più diciamo scientifica se si può usare questo termine per una maniera umanistica e dico non è proprio uno spettacolo perché secondo me la forza di questa narrazione di questo storytelling che un altro termine che adesso insomma ci riempiamo la bocca il museo funziona perché è già uno ha già una scenografia su esatto dotazione e tu dà importanza a una storia che già scritta e secondo me di questo di questo aspetto c'è bisogno forse anche un po di più che che vedere a volte un monologo che è più distante lì tu hai una c'è una dinamica ad esempio i visitatori si muovono e sono parte attiva di questa cosa per me questo è un aspetto e poi un aspetto pratico c'è un'urgenza che che c'è già nel museo cioè l'urgenza è quella di essere raccontata e di avere un motivo per raccontarti quella storia questo è molto bello perché mi ricorda in realtà che è una roba che già è stata fatta sto ricercando un attimo su youtube perché non mi ricordo effettivamente quando è che è successa questa roba qua è successa nel 52 il 29 agosto del 52 john cage che era un compositore contemporaneo del 52 magari qualcuno già lo conoscerà qualcuno no ha scritto un pezzo che si chiama 4 e 33 cioè 4 minuti e 33 secondi in cui lui arrivava in teatro la gente aveva pagato un biglietto per essere lì a teatro lui si sedeva al pianoforte apriva la tastiera si tirava sulle maniche si preparava a suonare e poi stava per quattro minuti e 33 secondi in perfetto silenzio immobile senza suonare nulla e la musica era in realtà la platea del teatro cioè le persone che erano in teatro la loro reazione a questa cosa quello era lo spettacolo e questo spettacolo non era mai uguale a tre volte perché il pubblico era parte integrante quindi magari c'era la volta al pubblico che rideva o che borbottava fra di loro magari c'era la volta al pubblico c'era qualcuno che si arrabbiava e diceva ma io ho pagato per essere qua suona qualcosa no e quindi era interessante questa cosa guarda e mi commuovi mi commuovo quasi perché queste sono appunto nel podcast e poi parlo tanto di questi tanto li nomino spesso questi fili rossi che mi piace pensare di collegare di essere bravo a collegare i fili rossi questa è una chissà se ho questa expertise questa competenza comunque mi piace pensare di chi e dico mi commuovo perché sono fresco fresco di un esame di storia dell'arte contemporanea e questa cosa che citi tu e tra l'altro io mi sento stranamente vicino ho trovato delle dei punti di contatto davvero molto forti col col periodo delle delle seconde avanguardie o dell'appunto della nascita della performance che forse il platto tra l'altro costitutivo potrebbe essere attribuito proprio a cage e c'è questo aspetto qua di anche un po di riverenza di stufia verso tutte le solite cose hanno voglia di fare di rompere un po i coglioni e questo è proprio una roba tipicamente di quegli anni e un po mi mi ci rispecchio tanto ma trovo che ci siano dei davvero tanti punti di contatto con la nostra realtà storica e poi gli anni sessante in particolare la pop art mi sembra vicinissima a quello che stiamo vivendo e tanto perché sto dicendo tutte queste cose non so ma per dire che l'esempio che fai sì è la performance esattamente loro si erano semplicemente rotti le scatole di quello che sta avvenendo e probabilmente siamo in un momento in cui saremo molto vicini a quella cosa perché effettivamente ci stiamo un po rompendo le scatole tutti quanti degli influencer che fanno le foto con la stessa color da mille anni delle pubblicità che da mille anni sono tutte uguali di speaker tutti impostati uguali cioè ci sarà un momento di rottura in cui probabilmente si arriverà a qualcosa di nuovo che tendenzialmente è sempre qualcosa che spinge al limite tutto quanto e all'inizio diventa arte poi dopo un po diventa probabilmente la normalità ma per continuare invece il discorso che avevo aperto con con il teatro portato all'interno dei musei al di là del teatro portato nei musei però tutta questa tua parte di essere guida di essere un didatta quindi di insegnare anche ai ragazzi quanto ti ha aiutato saper parlare saperti porre per avere l'attenzione delle persone ma anche solo per riuscire a parlare per tanto tempo di fila io mi ricordo un mio vecchio professore del conservatorio era il professore di armonia e lui me lo diceva sempre va meno male che io ho studiato edizione perché se no non riuscirei a parlare tutte queste ore di fila perché lui iniziava a fare lezioni alle 9 del mattino finiva alle 6 la sera parlava tutto il giorno e lui diciamo che parlava col diaframma proprio perché altrimenti sarebbe distrutto la gola no a te quanto quanto ti è utile saper parlare saperti porre ma sia per riuscire a parlare per tanto tempo di fila ma anche per per riuscire a catturare l'attenzione delle persone magari se stai facendo un tour alla reggia di venaria o ai musei reali e noti che qualcuno sta perdendo un po l'attenzione tu magari riesci a catturare l'attenzione con qualche piccola tecnica io mi incazzo e questo te l'hanno insegnato alla scuola di teatro no non ho insegnato nessuno quindi mi fastidisco molto anche se sono degli adulti quindi non penso sia una cosa teatrale ma quindi allora l'accademia sicuramente il canto penso un certo tipo di ecco di metodo che si chiama metodo funzionale della voce che è molto vicino a un'idea di voce naturale che tra l'altro un altro testo di una persona che si chiama christine link later che ha ovviamente poi è nato il metodo link later però questo tutta questa premessa era per dire che questo genere di lavoro mi ha credo sicuramente salvato la vita dal non scassarmi la voce perché io e mi capita poco ma mi succede ancora quando la perdo sono afono completamente per una settimana in accademia durante gli spettacoli di commedia dell'arte io andavo giù quindi quel lavoro sì penso mi abbia aiutato a non farmi male e a non perdere la voce quando parlo molto poi per parlare eh molto tempo di seguito la dizione non serveva niente cioè credo che più che altro conti sei delle cose da dire ma anche c'è anche gente che parla lungo senza avere niente da dire sì esatto la la dizione forse non tanto eh quanto più appunto il metodo di di parlare per riuscire a parlare tanto quanto più il metodo e magari anche per attirare l'attenzione per sembrare io adesso mi immagino quando vado a visitare i musei e c'è la guida magari il museo dura due o tre ore o addirittura anche quattro immagino gli egizio il museo egizio quattro rino che sono tre quattro ore di visita eh la guida normalmente è noiosissima perché ti racconta sempre le stesse cose o avanti come una macchinetta sia la guida registrata la guida registrata un po più carina allora la guida umana la persona umana di solito è molto noioso perché ti racconta quelle cose di sapere porti magari in maniera un po più teatrale quindi magari non essere te stesso che arrivi lì al lavoro e stai svolgendo il tuo lavoro ma il volerlo fare bene quindi voler applicare un po di metodo voler applicare un po di quelle giornate in cui sei particolarmente ispirato che che sei contento di fare quello che stai facendo e vuoi applicare un po di di metodo tuo teatrale questa cosa potrebbe essere utile per catturare o per mantenere l'attenzione delle delle persone perché magari riesci a tirar fuori più carisma riesci a a mostrarlo di più show off no sì secondo me anche in questo caso la mia risposta sarà poco poco appetibile perché di solito in questi casi guarda io uso la tecnica no la verità è che no io non anzi torniamo all'esempio secondo me del nuotatore è ovvio che si è imparato non parlare così ma ad esempio ad avere un volume di voce che si sente meglio a non stare così quando parli aiuta questo ti aiuta a guardare la gente con cui parli questo ti ti aiuta e aiuta che ti ascolta mi sembra una vietà ma torniamo sempre al discorso del nuotatore tu ti sei abituato a fare quella cosa perciò adesso tu quando ti hanno insegnato che quando sei alla mano guardi qualcuno negli occhi lo sai lo fai e noti la differenza rispetto a uno che quando ti saluta ti dà la mano moscia e questo secondo me è un tema su cui si potrebbe discutere persone di tecnica ma io non credo di essere la persona con cui questo venga meglio mentre invece la cosa che io ho fatto e che secondo me credo e poi da quello che anche mi dicono rende gustosi alcuni giri con me come alla reggio da altre parti innanzitutto è che lo rendono gusto che per me è bello farlo perché per me è importante e questo credo che adesso questa roba anche rientri poi nello storytelling e per me c'è un c'è un motivo per cui racconto quella quella storia lì che è la stessa struttura tra l'altro che c'è quando tu leggi un contesto teatrale che c'è in un film c'è un inizio e quell'inizio serve per arrivare alla fine per me il motore della re del raccontare la regge che rischiava di essere buttata giù e quindi per me è importante arrivare alla fine per dire questo pensate che ma è il il climax quella roba questo mi aiuta perché come la storia io devo dirti questo devo dirti che romeo deve scappare da giulietta perché lo vogliono ammazzare ma lui ama giulietta ma tutta questa roba crea però non penso a qualcosa di tecnico quindi credo che lo possa fare chiunque ci sono guide molto brave che lo fanno non hanno la dizione parlano male stanno anche stanno anche male in piedi deambulano male però sono 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 molto belle da sentire perché hanno questa roba ci sono podcast fatti da gente che non sa la dizione e non sa parlare molto belli perché hanno qualcosa l'anima boh mentila come vuoi esatto questo era anche un piccolo tema che che volevo parlare con te perché adesso soprattutto nel nel mondo della comicità lo vediamo ma non solo adesso anche con l'avvento no degli influencer molti stanno lì a fare storia a parlare hanno un sacco di gente che li segue ma non sono minimamente capaci a parlare adesso io non seguo influencer quindi non saprei assolutamente fare esempi e robe li trovo anche piuttosto noiosi ma perché parlano di cose che non interessano però per esempio invece se poniamo l'attenzione sul mondo della comicità è vero che chi è nel mondo della comicità molto spesso ha studiato recitazione quindi sa come porsi e tutto però è anche vero che molti di loro se ne battono altamente no della dizione c'è il comico classico in italia ma una volta poteva essere diverso perché una volta la comicità era fatta su un palco a teatro però adesso se prendiamo maccio capatonda o queste persone qua c'è nessuno di loro ma c'è capatonda la tecnica comunque lui lui ne ha parecchio potrebbe essere davvero uno speaker tra l'altro tantissimo anzi lui è molto bravo come speaker difatti ho proprio scelto l'esempio sbagliato però è chiaro quello che dici la diciamo che la dizione passa in secondo piano quindi in realtà è tutto fatto forse più al carisma della persona piuttosto che all'addizione in sé tra l'altro ludo ciao ludo ti vedo adesso gabriele ero abituato ad immaginarti in questi posti in questi posti pazzeschi della serie film di garamondo guardarti in studio gremigliano ludo dico non mi ha mai visto in movimento ha visto una ti sei bloccato un attimo ok scusa ti abbiamo perso per un secondo dicevo che forse ludovico non mi ha mai visto in movimento ha visto una mia foto o una o la mia voce e adesso invece sì sì esattamente esattamente allora mi sto mi sto un attimo perdendo allora abbiamo marzia che si fa al punto di forza il punto di forza credo sia mettere in luce le proprie radici la provenienza ma anche la provvidenza secondo me è importante anche la provvidenza soprattutto chiaro è un mix è un mix di cose che fanno sì che alla fine funzioni quella quella ma scusa mi viene in mente una cosa di quello che hai detto penso che tutto dipenda anche da che cosa uno deve fare se devo fare la pubblicità mi serve come dicevamo prima avere quella voce lì perché devo parlare dal nord al sud e l'italiano è quello è se devo fare l'influencer non è richiesta questa roba su instagram noi non cerchiamo questo noi cerchiamo le persone perché c'è questo adesso questo questa esigenza voyeristica di vederci per come siamo o perché non so se poi sono così però insomma quello spazio intimo e se io metto mi metto su instagram e parlo come un doppiatore c'è un distacco che non è quello che si cerca con i social che vogliono avvicinare vogliono creare interazione e invece quello che dice ad esempio adesso va moltissimo nei podcast quello che dice marzia cioè fallo come sei se tu vuoi fare un podcast domani ti metti parli e non ti preoccupi di come sì anche sui comici è quella roba la sì è esattamente questa cosa qua marzia esattamente cioè quando hai qualcosa da dire che funziona che però è qualcosa che arriva da te a questo punto non serve avere la dizione la dizione serve quando devi fare doppiaggio quando devi fare speaker agi professionali quando devi fare audiolibri o insomma tutto questo ma non è lo spirito santo è come dire mi serve lo zaino se devo andare in montagna esattamente non vado in montagna e tutto esattamente quella roba lì perfetto se devi andare a correre avrai le scarpe da corsa se devi fare se voglio fare il doppiatore o l'attore il danzatore si c'è questa caratteristica in più che noi in modo un po secondo me rischioso definiamo talento però insomma è quella cifra che è meno soggetta al nostro controllo ecco forse questa la quella misura in più esattamente esattamente io avevo un sacco di domande ancora da farti però mi sa che stiamo ci stiamo avvicinando verso verso la fine della live perché poi io so che tu devi anche andare al lavoro fra un attimino gabri vuoi chiudere con qualcosa per mettere una massima sapienziale e hai una massima sapienziale da mettere con la città esatto hai qualcosa di di carino tipo una città ti sei di nuovo bloccato un po gabri ci sei ah sei tornato mi sa hai la connessione che va che vai no 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 non ho preparato una chiusura efficace vuoi farmi un'ultima domanda chiudiamo con una domanda e cerco di farla e sarei conclusiva la risposta allora ti faccio un'ultima domanda per esempio che cosa dovrai andare a fare in difficoltà ti metto in difficoltà una cosa che allora facciamo posso usare questo spazio come un luogo di psicoterapia che cosa sai cucinare tu che cosa sai cucinare tu qualcosa di semplice che abbia una ricetta molto facile a come si fa la pasta la pasta la sai fare la pasta in bianco dai normale se vuoi concludere con una ricetta sì però mi deve essere conclusiva ti dico cosa vado a fare dopo se vuoi dimmi cosa vai a fare dopo ma dire lo ma dimmelo un po in maniera in maniera intima sexy esatto molto intima come se la sentissi tu come se fossi anche un po un po' nostalgico da questa cosa no non ti sentiamo gabri che fine cosa è successo adesso ti sentiamo come mai il micro non lo so adesso mi sentiamo vabbè l'hype è completamente caduto quindi sono uscito dalla parte no vabbè dopo vado solo a fare accompagnare ho una devo accompagnare una scuola alla regia di venaria ok vabbè comunque farai farai comunque nonostante tutto farai un giro dei tuoi faccio un giro dei miei ok ottimo è peccato abbiamo perso l'hype in questo momento il tuo il microfono ci ha abbandonato però se vuoi riprovare possiamo provare a dire qualsiasi altra cosa ne abbiamo perso totalmente esatto esatto marzia si esatto marcia ci chiede se hai fatto la voce per i video di chi di mangiaro esatto marzia gabri è una delle voci che ha partecipato alla serie video makers non solo una delle tante con cui emiliano si intrattiene esatto una delle tante voci con cui emiliano si intrattiene mettiamo i puntini sulle i perché poi la gente potrebbe anche il suo preferito in realtà gabrile dice di no ma è il mio preferito e di fatti oggi ho invitato lui qua mica mica le altre voci va bene ragazzi intanto vi ringrazio tutti voi che che ci avete seguito vedi che simone anche sta dicendo ma la voce di cui parla se il suo prese non lo so non lo so la classica adesso non voglio essere volgare ma mi mi maltratta sempre gabriele ma poi in realtà ci vogliamo bene ragazzi io vi saluto vi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e anche quelli che ci seguiranno su su youtube spero che sia stata una live un po illuminante spero che lo sarà per chi ci seguirà su youtube è una live illuminante se volete conoscere un po meglio gabriele mi scrivete in privato vi lascio il suo numero o i suoi di comunque un bel ragazzo un indirizzo esatto vi lascio un indirizzo ecco ma concludo con questa cosa velocissima ecco che hai detto questa cosa sulla faccia sul viso ecco il doppiaggio le sale motivo per cui mi sentivo bene adesso mi sto vedendo e quindi un po meno e che gli attori che sono disagiati e io in generale comunque sono disagiato lo spazio del della sala di doppiaggio è un posto che mi ha messo da sempre a mio agio perché non mi si vede e quindi c'è una sensazione di di non preoccupazione a come sei la fa no ed è una roba e la voce è una cosa intima un po di quello che secondo me si ecco questa qui è una bella conclusione secondo quello che si dicono e degli occhi che la voce non mente è vero è vero io io tra l'altro sono dalla tua parte gabriele la penso esattamente così io ho iniziato facendo musicista ero un musicista anni fa suonavo suonato in tantissime band ho girato buona parte del senso non tutta l'italia sono stato fino in sicilia suonare quindi direi tutta poi a un certo punto ho smesso di voler stare sul palco e volevo stare dietro e difatti mi sono messo a fare post produzione audio perché non mi piace più stare davanti quindi io ti capisco in questa cosa qua è una sensazione figa simone andrello ci scrive i famosi occhi del cuore esattamente simone esattamente quella cosa lì ragazzi grazie mille ciao a tutti grazie di essere stati con noi o grazie se sarete con noi grazie di esistere a emiliano grazie a te gabrie di esistere ciao ragazzi ciao a tutti